Ciao a tutti! Lei è Alice Lei è Lisa Stiamo facendo questi video per... Questo è il primo della serie per parlarvi dell'azienda con cui stiamo lavorando Stiamo lavorando con un'azienda americana di cui siamo orgogliosissime Brava! Siete in tanti che ci fate un sacco di domande quindi può servire a chi ancora non la conosce e magari come approfondimento a chi già è entrato a lavorarci e vuole saperne qualcosa di più È un'azienda che sta spopolando appunto è iniziata in America, in Asia, adesso è arrivata anche in Europa da qualche anno L'azienda è arrivata in Italia da meno di 4 anni e sta veramente esplodendo Esplodendo perché? Perché tratta di prodotti meravigliosi Il primo di cui vorremmo parlarvi è il siero Il siero che fa parte della linea Lumines Come diceva Lisa questo è un siero è un prodotto potentissimo è il motivo per cui l'azienda è nata perché quando i fondatori hanno conosciuto il dottor Nathan Newman che è uno dei più grandi studiosi delle cellule staminali a livello mondiale hanno capito di aver davanti un prodotto che non potevano lasciarsi sfuggire Cosa contiene? Contiene più di 240 fattori di crescita delle cellule staminali umane Cosa ha fatto il dottor Nathan Newman? È riuscito ad estrapolare i fattori di crescita dalle cellule staminali umane e formulare un siero Una cosa importante da dire è che nel nostro corpo ci sono 268 fattori di crescita e all'interno del siero ce ne sono più di 240 Ciò significa che la quasi totalità dei nostri fattori di crescita sono contenuti in questo prodotto che quindi può curare davvero tante tante problematiche Cioè io ho risolto un problema alla pelle Si vedono? Pugliano di cicatrici ragazzi non si vede più niente non sono nemmeno truccata La cosa bella è che quando si inizia a lavorare con questa azienda poi si iniziano ad avere anche le testimonianze proprie all'interno della propria squadra e quindi è molto bello vedere le persone che aiuti con questi prodotti A cosa serve questo prodotto? Serve a risolvere la quasi totalità dei problemi che la nostra pelle può avere Perché? Che cosa fanno i fattori di crescita? Quando si mettono i fattori di crescita a contatto con la nostra pelle questi richiamano le nostre cellule staminali stesse e inducono il nostro corpo a produrre quello che in quel punto della pelle manca Cosa significa? Questo prodotto era nato per i gravi uscionati e poi si è scoperto che si poteva applicare a moltissime problematiche perché a fronte di una ruga, di un brucolo o di problemi più gravi come zemi, psoriasi, dermatiti il nostro corpo grazie ai fattori di crescita riesce a richiamare e produrre lui stesso quello che sulla nostra pelle manca quindi è un prodotto eccezionale Allora, parliamo di come si usa è molto semplice intanto ve lo faccio vedere è un flaconcino come si usa? Allora, se ne mette un pump o mezzo pump con il viso pulito perché si riesce ad assorbire molto meglio grazie alla pelle umida quindi se ne mette uno o mezzo pump dipende dalla gravità del problema prima della crema giorno e prima della crema notte quindi pelle pulita siero, crema giorno siero, crema notte semplicissimo chi può usare questo prodotto? tutti il bello di questi prodotti è che sono obbligabili su qualsiasi tipo di pelle perché quando il fattore di crescita richiama quello che è necessario il prodotto è unico per qualsiasi condizione quindi quelle giovane, matura, pelle secca, pelle oleosa questi prodotti vanno a ristabilire sempre la condizione della pelle a riportarla nel suo stato ottimale posso dire che possiamo trovare in giro, in commercio prodotti che contengono fattori di crescita di cellule staminali ma non sono umane sono o vegetali o animali ma noi non siamo né ciprezzi né conigli quindi non sono assolutamente compatibili con il nostro DNA con la nostra pelle e il problema è che di solito l'origine dei fattori di crescita non è indicata nelle confezioni di questi prodotti anche molto costosi che trovate in profumerie di altro livello questo prodotto, questa formulazione è stata brevettata e ce ne ha preso l'esclusiva mondiale quindi questa formulazione è unica al mondo esatto ciao 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 ciao